Sei nuovi piccoli pazienti ucraini sono arrivati a Milano grazie ad un aereo sanitario. Dunque, grazie a Regione Lombardia, Areo e Fondazione Sole Terre, sono stati messi in salvo altri piccoli che fuggono dalla guerra. Due di loro sono malati oncologici, altri quattro hanno patologie gravi e quanto riferisce Regione Lombardia in una nota. Dall'inizio di marzo sono dunque 26 bambini e gli adolescenti pazienti di oncologia che grazie a questo lavoro di squadra sono potuti scappare dai bombardamenti per essere curati dalle strutture sanitarie regionali e nazionali. Da parte nostra, commenta il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, stiamo facendo tutto il possibile, unendo le forze per mettere in salvo quante più persone possibili, così da garantire loro in sicurezza tutte le cure di cui hanno bisogno. I bambini, a maggior ragione se colpiti da malattie importanti, devono continuare ad avere la priorità. Continuiamo con il nostro impegno costante, aggiunge il Presidente di Fondazione Sole Terre, Damiano Rizzi. Un'altra missione umanitaria è riuscita, ma non basta. Tanti altri bambini hanno bisogno di noi. Questo conflitto non risparmia i più vulnerabili e la prontezza di intervento è fondamentale. In queste ore sto coordinando e partecipando personalmente alle evacuazioni sanitarie in Polonia per dare il mio contributo diretto ed assicurarmi che ogni paziente abbia il necessario. Non si può trascurare il più piccolo dettaglio. Altri voli sanitari atterreranno in Italia, a concluso, dove è in atto un meccanismo di soccorso straordinario che non smette mai di sorprenderci e che dalla Regione Lombardia sta prendendo sempre più una dimensione nazionale.